Intanto proprio una parola per presentarmi, sono Fabio Pasquarelli, sono il direttore di transport che è un format che è iniziato sei anni fa, un format tv che è prodotto da Telenord ma che oggi è soprattutto un format web dedicato totalmente al mondo del trasporto e della logistica, quindi si parla di shipping, si parla di trasporto delle merci sia su ferro che su gomma ma si parla anche moltissimo di trasporto pubblico. Il dibattito di oggi credo che possa essere interessante perché alcuni temi sono stati già sviluppati in maniera tecnica da chi ci ha preceduto nelle relazioni, però sicuramente anche dal punto di vista della cultura, perché sicuramente il tema della cultura è un tema che va affrontato con continuità nel senso che nella nostra attività di giornalisti nel settore ci siamo accorti subito dall'inizio ma continuiamo ad accorgersene, ahimè, passando il tempo che l'utente, il cittadino di cultura sul trasporto, sul trasporto pubblico ne ha poca, ma non per colpe sue, ma soprattutto perché i temi che sono, sarebbero diciamo di interesse, devono essere di interesse assoluto per tutti sono affrontate, sono affrontate poco sia dal punto di vista dei media ma sia, ma probabilmente anche in maniera insufficiente dal sistema politico, dal sistema istituzionale, dal sistema di chi governa. Allora, però io passerei la parola subito all'assessore Matteo Campora che è qui con noi. Io, assessore, prima battuta, le lascio poi la parola per la sua relazione, la sua presentazione, ma volevo parlare di un tema anche che è quello del, sì, del trasporto pubblico, ma soprattutto del trasporto privato che comunque continua a essere, e lei è assessore dell'ambiente, quindi, che è un, diciamo, sì, esageratamente in testa alle classifiche di utilizzo del, diciamo, della persona che lo utilizza, che utilizza il mezzo privato per spostarsi giornali, in maniera quotidiana per lavorare, per obiettivi legati alla propria occupazione, però anche al fatto che addirittura questi mezzi siano, diciamo, veramente vecchi in grandissima percentuale, quindi mezzi che inquinano in maniera pesantissima e che continui a farsi, secondo me, pochissimo per cercare di ridurli. Cioè, oggi si vedono comunque mezzi che hanno vent'anni, venticinque anni, a fronte poi di campagne di, diciamo, per invogliare all'acquisto del mezzo elettrico, ma in prima battuta, secondo me, bisognerebbe togliere dalla strada questa quantità di mezzi veramente importante. Ecco, non so cosa ne pensi lei, cosa vorrete fare in futuro. Beh, tanto abbiamo già fatto, buonasera a tutti, ringrazio l'Ecoistituto e i relatori importanti che sono intervenuti oggi. Io mi occupo di ambiente, nel Comune di Genova abbiamo assessorato all'ambiente e poi abbiamo il vice sindaco che ha la delega come assessore ai trasporti. Abbiamo già approvato il piano dell'aria, è stato approvato due mesi orsono e deriva dal piano cosiddetto dell'aria regionale, quindi abbiamo recepito quelle che sono le prescrizioni e le indicazioni e all'interno del piano abbiamo tutta una serie di limitazioni a cui faceva accenno. Direi che il entro una decina di giorni dovremo sottoscrivere l'ordinanza che poi dà attuazione al piano dell'aria e ricordiamo la fase 1 che è prevista dal piano dell'aria che stabilisce il divieto di circolazione per quanto concerne una zona centrale che poi verrà perimetrata, per quanto concerne gli autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore uguale a Euro 1, autoveicoli privati alimentazione di diesel M1 di categoria emissiva inferiore uguale a Euro 2, i ciclomotori motocicli di categoria emissiva inferiore a Euro 1 e 4 i ciclomotori motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore uguale a Euro 1. Questa qua sarà la fase 1 e nei prossimi giorni avremo l'indicazione temporale del momento in cui queste norme dovranno diventeranno attraverso un'ordinanza porteranno al divieto nella zona centrale della città di accesso a determinati mezzi. Sicuramente rispetto ad altre città, altre città hanno proceduto con tempi più veloci, Genova è una città particolare dal punto di vista della mobilità e del trasporto che è difficilmente paragonabile ad altre città e l'anno scorso abbiamo l'assessorato all'ambiente ha promosso questa serie di incentivi che avevano come obiettivo quello di far acquistare bici elettriche, far sostituire il scooter a benzina con scooter elettrici, è una misura seppure limitata nell'importo, erano 258 mila Euro che ha avuto un certo successo in quanto in tre mesi abbiamo esaurito quello che era il fondo e ovviamente questa misura era una misura che aveva come effetto e l'andremo a riproporre anche nel 2019, quello anche di creare comunque un effetto di emulazione tra i cittadini, sapendo che qualche centinaio comunque di bici elettriche di per sé non hanno un'incidenza importante. Per quanto concerne il piano dell'aria abbiamo tutta una serie di misure, li vado a leggere molto velocemente, abbiamo alcune misure per migliorare l'offerta di trasporto pubblico, purtroppo non c'è il vice sindaco che ne avrei parlato un po' più a fondo, per quanto concerne la sostituzione dei mezzi, abbiamo misure relative alla mobilità elettrica, quindi all'infrastrutturazione elettrica come si può vedere in città negli ultimi settimane, negli ultimi mesi è cresciuto in maniera importante il numero di colonnine, di infrastrutture di ricarica presente sul territorio. Abbiamo poi un tema che è un tema importante per la città che spesso è stato anche oggetto di confronto anche con l'Ecoistituto che è il tema del porto che rappresenta comunque sulla città a un certo peso. Naturalmente sappiamo anche quelli che sono i poteri che può avere il comune sul porto, perché sappiamo che comunque tutta una serie di interventi all'interno del porto non vengono fatti direttamente dal comune, ma intervengono altri soggetti come l'autorità portuale o la capitaneria. Esistono poi delle misure diverse che non concernono la mobilità, ma che riguardano sempre l'abbattimento della CO2, che sono le misure contenute nel SEAP, che è un piano di azione che prevede interventi di riqualificazione invece sugli immobili pubblici, quindi interventi sulle centrali termiche, che anche queste possono avere un'incidenza importante per quanto concerne l'inquinamento. È stato poi affrontato un tema che anche nel titolo si parla di biomettano, si parla di biogas, questo è un tema che a Genova è sviluppato, seppure in parte minima, ricordiamo che abbiamo presento ormai da un certo numero di anni Asia, che è una società che molti di voi conoscono, che è torinese, che opera nel campo dei rifiuti, che ha questo impianto posizionato sulla riscarica di Scarpino, che va a captare il biogas. Attualmente ciò determina la produzione di energia elettrica, ma è stata presentata una richiesta che è al vaglio per far sì che il biogas captato venga immesso direttamente nelle condotte, quindi segua la strada che segue il biomettano che viene scaricato poi direttamente dal porto e poi va verso il nord Italia. Anche questa è un'iniziativa importante perché non è detto che in un futuro magari si possa pensare, parliamo di circa di 6 milioni di metri cubi all'anno come produzione, che possa essere in qualche maniera riutilizzato. Si è parlato molto del Ponte Morandi, questa ha determinato tutta una serie di problemi con maggiore traffico sulla strada mare, sappiamo che chi abita lì più volte ha espresso un forte disagio, viviamo però un momento anche di grande difficoltà, dove dobbiamo tenere insieme l'aspetto ambientale però con l'aspetto economico e con l'aspetto della crescita della città. Sicuramente quando il ponte sarà costruito, credo che avverrà nei tempi che sono stati indicati dal commissario, questo porterà alla città, ciò determinerà il fatto che la città si troverà delle infrastrutture che prima non aveva. Dopodiché noi dobbiamo cercare di migliorare la rete ferroviaria, ci sono grandi progetti sulla metropolitana, però è chiaro che il tema ambientale è un tema prioritario. L'approvazione del piano dell'aria, che è avvenuta due mesi fa e negli anni precedenti non era stato approvato, sono già state fissate alcune regole che qui a Genova non erano mai state fissate. Noi dobbiamo andare avanti senza paura ovviamente di protesto o di altro, perché comunque in tutte le città i mezzi che vediamo girare a Genova non girano ormai da molti anni. Grazie, assessore. Ecco, adesso non c'è il vice sindaco, mi avrebbe fatto piacere poterlo chiedere a lui, ma prima il dottor Scarfone parlava della rete di trasporto pubblico di Bergamo e parlava delle due direttrici, delle due valli che insistono sulla città, la Val Seriana e la Val Brembana. Noi abbiamo la nostra Val Polcevera, abbiamo la nostra Val Bisagno. La Val Polcevera diciamo che anche col progetto di allungamento della tratta metropolitana in qualche modo andiamo a migliorare ulteriormente la situazione. La Val Bisagno è sempre rimasta invece un po' un nodo cruciale, nel senso con anche una problematica addirittura proprio nella scelta del mezzo di trasporto più adatto per coprire le esigenze della valle stessa. Ultimamente, anche se lei non è esattamente, però c'è stato forse un passaggio importante, si può auspicare di arrivare a una soluzione che potrebbe essere quella del tram, ma forse no, oppure siamo ancora un po' indietro? Sulla Val Bisagno i progetti nel corso degli ultimi vent'anni sono stati molti, ricordo il people mover dell'assessore Arcangelo Marella, mi pare l'avesse proposto lui, probabilmente potrebbe essere anche un'ottima idea fino ad arrivare poi a tanti altri progetti che poi non si sono mai concretizzati nulla di effettivo. Su questo ci sono ragionamenti, non dico altro perché poi ognuno di noi si occupa della sua parte, mi occupo più della parte dell'ambiente, della parte dei rifiuti, mi occupo più di questi aspetti, quindi non vorrei nemmeno dire cose imprecise, perché ognuno è giusto che parli delle cose che conosce al meglio. Grazie. Sì, vice sindaco, adesso non arrivo, quindi tempo nel... Grazie. 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 Grazie a tutti.